Nicola dopo la bella vittoria per 3-0 di domenica scorsa a Monza si torna a giocare in casa e si torna a giocare a Verona questa volta l'avversario è Padova, qual è l'obiettivo della Calcedonia? Beh l'obiettivo nostro sarà quello della vittoria e di portare a casa i tre punti come abbiamo fatto domenica scorsa a Monza e ci siamo preparati bene per tutta la settimana e arriviamo pronti a questa partita Quanto era importante fare i tre punti a Monza e quindi iniziare questa preparazione questa settimana con un altro spirito rispetto alle due precedenti sconfitte? Era importante perché venivamo una sconfitta in casa contro Latina quindi ci ha fatto sicuramente bene la vittoria i tre punti in trasferta a Monza anche per il morale e come ripeto abbiamo iniziato bene la settimana e arriviamo carichi a questa partita in casa dove vogliamo ottenere i tre punti Si sente la differenza tra preparare un derby e una partita normale? Beh è sicuramente differente e credo che il pubblico veronese senta di più anche questa sfida sotto questo punto di vista e quindi li aspettiamo numerosi al Palo Olimpia domenica per tifare e sostenerci sempre